C'era una volta la provincia e c'era l'unico studenti. Ora, con l'ente commissariato da più di un anno, tocca a comuni e consorzi aiutare le famiglie nel pagamento degli abbonamenti del trasporto pubblico per i ragazzi. Il comune di Calazzo è riuscito, li mando qua e là il bilancio, a trovare i fondi per aiutare gli studenti che dal paese Cadorino devono raggiungere i principali istituti scolastici della provincia, da Pieve a Feltre, passando per Longarone e Belluno. Finanziare tutti quegli abbonamenti di quei ragazzi, e sono ben 22 che vanno a Belluno, ma non solo, anche alla ragioneria, anche a Cortina, anche a Longarone, e che hanno un abbonamento che è lievitato tantissimo. Si passa dai 2,35 appunto di quando c'era l'unico studenti a 509 euro per chi va a scuola a Belluno. Cifre oggi insostenibili per molte famiglie, quasi impossibili da affrontare per chi magari ha due o più figli. Il contributo calaltino si fa così aggiungere a quello già approvato mesi fa del consorzio Bimpiave, che ha fornito ai suoi comuni fondi per abbattere i costi degli abbonamenti. Noi siamo riusciti ad intervenire aggiungendo ai fondi che mette a disposizione il consorzio dei comuni, aggiungendo 140 euro ad abbonamento ai 33 abbonamenti che hanno fatto domanda, ai ragazzi che hanno fatto domanda, per cui oggi da Calazzo si va a Belluno spendendo solamente 260 euro, che è la stessa cifra più o meno che spendono quelli che vanno a scuola a Pieve. Quindi abbiamo livellato tutti gli abbonamenti su quello più basso. Con le casse dello Stato sempre più vuote e la mannaia che pende sui conti dei comuni, fare sociale è sempre più difficile. Aiutare gli studenti vuol dire aiutare le famiglie, mantenerle nei paesi e salvare così la montagna. Far permanere quante più famiglie possibile a Calazzo. Viviamo uno spopolamento duro, ma crediamo che sia meglio concentrarsi su qualcosa di serio e su qualcosa di concreto. I bonus che abbiamo fatto per gli studenti per il trasporto va in questo senso, assieme a quello dei libri, perché a Calazzo finanziamo anche i libri di chi va in prima superiore. Grazie. Grazie. Grazie.